Alcuni cani hanno un carattere irrequieto e nervoso a causa dell'età o della genetica. Tuttavia, altri mostrano comportamenti irrequieti a causa dello stress o dell'ansia. Lo stress genera una reazione nel corpo del cane, che può manifestarsi con un tentativo di fuga o reattività accompagnata dalla tratti, ringhio e tentativi di attacco. Vuoi sapere come ridurre lo stress nel tuo migliore amico a quattro zampe? In questo video di Animal Pedia ti spieghiamo quattro rimedi per ridurre lo stress nel tuo cane. Da non perdere! Una delle attività più importanti è quella fisica. Dovremmo dunque fargli svolgere attività che aiutino il nostro migliore amico a canalizzare correttamente la sua energia. Pertanto, dobbiamo effettuare un minimo di tre passeggiate giornaliere, sempre adattate alle esigenze specifiche di ogni individuo. Consigliamo anche la pratica quotidiana di una sessione di allenamento come corsa, giochi o alcuni sport canini come l'agility. Un altro aspetto molto importante che spesso i tutor trascurano è la stimolazione mentale, essenziale per mantenere il cervello attivo in tutte le fasi, anche se particolarmente importante nella fase della giovinezza e della vecchiaia. I giocattoli interattivi, gli esercizi di obbedienza di base o di abilità del cane sono ottimi a questo scopo. Ci sono molti esercizi di rilassamento che possiamo fargli fare per migliorare lo stress nel nostro cane. Le carezze, accompagnate da musica rilassante, sono un'ottima opzione per favorire un sonno rilassato e la calma all'interno della casa. Esistono alternative per cani come il doga, cioè lo yoga per cani. Urlare, sgridare o punire il nostro cane mentre si comporta in modo inappropriato o nervoso non risolverà il problema. In realtà, questi comportamenti genereranno ancora più preoccupazione nell'animale, così come la frustrazione e una rottura del legame con il proprietario. Al contrario, mantenere un atteggiamento calmo e positivo, oltre a rafforzare atteggiamenti calmi, lo aiuterà a capire come deve comportarci e favorirà l'apprendimento dei comportamenti positivi. Questi sono alcuni dei rimedi più efficaci quando si parla di stress in un cane. Tuttavia, per trattarlo definitivamente, sarà essenziale capire qual è la causa che lo genera e cercare in tutti i modi di aiutare il nostro animale. Non dimenticare di consultare un veterinario specializzato in etologia se pensi che il problema del nervosismo del tuo cane sia grave o che non migliori nel tempo. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al nostro canale. Alla prossima!